Allora iniziamo dall'award credit management per la carriera di credit manager e chi meglio di Roberto D'Averio può venire qua e leggere la motivazione tra i contendenti e poi proclamare il vincitore. I contendenti sono Francesco Adorni di Barilla, Giuseppe Lunghi consulente, Adriano Mininni di Ramstad Group e Maria Silvestri di FHP. Dicono che l'esperienza sia l'insegnante più difficile, prima ti fa l'esame poi ti spiega la lezione. Nella sua vita professionale ha sbagliato tanto, ora che ha imparato molto è un grande esperto. Adriano Mininni. Ciao. È un casino. Non sono mai stato capace di parlare in pubblico stasera. È un casino. è ancora più difficile. Quindi, come dico sempre, tutti super esperti, tutti super bravi, tutti... mi sento un po' come Albano che deve suonare dopo i Clash, no? Cioè è una cosa difficilissima. Niente, volevo ringraziare tutti e ringraziare questo personaggio che per là che mi fa veramente tanto e vi dico nell'ordine. Un amico, un collega, il Presidente dell'ACMI è, ahimè, il mio più grande competitor. Grazie mille. Ciao. Ciao Rob.